www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Vigilia del Corpus Domino qui a Mussomeli In quest'oggi 6 giugno 2015 La banda è arrivata E lo ha accompagnato le autorità Per partecipare ai Vespri Solenni Del Corpus Domino E' un po' di chiudere Ventre parlavo Tirando le immagini E' un po' di chiudere Alla consorella Enza Cosa dobbiamo chiedere Stasera c'è la cantata dei fratelli E della congelia Cosa puoi dire? E' un momento di grande gioia Per la contraternita Perché la festa del Corpus Domini E' la nostra festa E' l'ingresso di questi nuovi fratellini e sorelline Non fa altro che riempirci di gioia Perché continua la storia E' questo percorso di comunione Che è da 500 anni Che percorriamo tutti insieme Siamo pronti per questa sera Per la cantata dei fratelli Siamo pronti? Sì, sono un po' emozionato però E' emozionato perché? Perché è la prima volta O meglio E' la prima volta che E' il mio tuo fratello E quindi un po' sempre emozione c'è E' andare a far porto Alla confraternita della Madrid Dove si può dire Ufficialmente E' sempre un grande prestigio E Riccardo cosa dice? Sicuramente Molto emozionato anche io Perché Oggi sarò fratello ufficialmente Dall'Archiconfraternita Del Santissimo Sacramento Ed è sempre un grande onore E vestirò proprio gli abiti Gli abiti della confraternita Che cosa sono questi indumenti? Questi sono gli indumenti Per la vestizione Del nuovo confraternita E allora stasera parteciperai Alla cantata dei fratelli? Sicuramente Perché sono un novizio E questa sera sarò cantata dei fratelli I confraterniti sono pronti Sono quasi pronti Per snodare Nel corteo introitale Per i vespri soleni Che saranno celebrati Nell'attiva parrocchia Della madrice E i confraterni precedono Il cappellano Il cappellano Arciprete Don Pietro Eugenco Seguito Dal nuovo sindaco Giuseppe E il cappellano 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.